Dal 1973 progettiamo e realizziamo macchine e linee complete di confezionamento. Da oltre 50 anni, flessibilità, cura del cliente, passione e innovazione. OMAG è il lavoro di squadra. Come in una famiglia, condividiamo il talento e l'esperienza. Da Gradara e in tutto il mondo, troviamo soluzioni innovative per il packaging del futuro. Perché il futuro è il nostro tempo. Grazie per la visione.